che è la mancanza di speranza, che divora le nostre stesse vite, non la sassi. L'amore forti che sta pronunciando a nome di tutti gli operai, ma anche dei tanti disoccupati in piazza Ienne, il Papa lo abbraccia, un vero abbraccio che commuove tutti. Guardate un po', la gente sta seguendo. Santo Padre, sono un'imprenditrice, presidente della cooperativa sociale Primavera 83.